Quest'anno presso la Marina Militare, qui nella base navale di Messina, abbiamo la disponibilità di far visitare la lanterna del Montorsoli e i suoi bastioni. Quindi partiamo da un prospetto architettonico che va dal 500 fino all'800. Molto interessante che noi abbiamo aperto alla cittadinanza proprio perché riteniamo che sia fondamentale questo connubio, questa sinergia tra la Marina Militare e la cittadinanza proprio su questi aspetti culturali di grandissima importanza.